Buonasera ragazzi, è piaciuto lo studio dell'arte, provate a indurare chi è questa artista mi me prelevoinat, che se vікça di firi ma... mi mi parte di Somosagion, io mi mi metterò chiar только ERIC e non mi un poffatore, non l'acchiss�游 io ci haben vishar, io penso che senza voi Grazie a tutti. Grazie a tutti.